di questo corso. Eccomi qua sono molto contenta e mio figlio è arrivato fino a un certo punto poi non ce l'ha più fatta perché era stanchissimo ma è molto entusiasta infatti ho deciso di fare anche quello sulla lettura che farò io stasera e domani sera mio figlio quindi no senz'altro tu dai una carica importantissima secondo me e sei una carica di energia importante cioè proprio come parli come ti proponi insomma come spieghi le cose è tanta roba secondo me e quindi io adesso va bene mi mancano pochi esami per finire e spero di dargli un'accelerata con questi con questa tecnica nuova insomma ecco comunque grazie a te grazie a tutte le ragazze bravissime tutte però tu hai una carica importante. Ringrazio anche troppo vi sarebbe smorzarmi per fortuna un compagno molto pacato quindi ci compensiamo. Eh vabbè ci sta. Però Silvia che richiede il mio post in senso buono. Sì ma vi compensate da Dio. esatto esatto